Sono il presidente dell'associazione Cluster Edilizie Costruzioni, un'associazione nata a maggio del 2017 che è stata accreditata in ottobre dalla regione Emilia-Romagna e che cerca di mettere a sistema e anche in un'azione collaborativa imprese, soprattutto imprese, laboratori di ricerca e anche attori che lavorano nel campo della formazione perché nel campo dell'edilizia queste tre qualità degli attori diventano fondamentali per migliorare, trasferire tecnologie, decidere anche quali sono le abilitazioni tecnologiche e strategiche che devono essere proposte nell'ambito del territorio ma anche nella competizione europea e internazionale. Abbiamo molto lavoro da fare, molto sfidante perché le costruzioni vivono un po' un ritardo dovuto anche alla crisi ma anche alla tradizionalità di certi processi costruttivi ma anche tecnologici e abbiamo bisogno anche di creare una nuova narrazione per i cittadini in maniera tale da dare fiducia perché si inneschi il processo di rigenerazione e di recupero urbano. Grazie.